Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, finalmente oggi vi carico e vi presento l'apertura dei 2 Megatin 2015 quindi senza perdere tempo cominciamo con l'apertura di questo, se sono stato assente o meglio se non li ho caricati venerdì è perché semplicemente non sono arrivati, mi dovevano arrivare venerdì, anzi facciamo una cosa, proviamoli tutti e due, tanto i pacchetti sono gli stessi, stavo dicendo mi dovevano arrivare venerdì ma le poste mi hanno lasciato appeso e io vabbè, chissà se arrivano lunedì, infatti mi stavo cominciando anche a preoccupare se arrivavano o meno, come sono belli, tra quelli per gli olexid è una figata, i box, cioè in tin sono in inglese ma penso che le arte siano uguali per tutte le lingue, mi auguro che non sia contro luce, cominciamo da questo abbiamo detto allora, c'è il promo pack con i 3 pacchetti, abbiamo ecco il fantomatico un orden e majesty e nell'altro, fa un culo ho tolto le bustine senza carte, abbiamo questi tre qua, che vabbè allora due mi ricordo, queste non mi ricordo e vabbè i mega pack e iniziamo con l'apertura allora, ora non mi ricordo dove stanno i fottuti, mettiamoli qua così, si vedono le foil, allora proviamo a cacciarne, mi sembra che erano davanti, uno due tre quattro, auguro di non aver sbagliato, facciamo cinque per sicurezza, allora faccio vedere piano piano, questo, oh vabbè la terza mi serviva, non l'avrei trovato nello structure che uscirà, allora come secret, oh dai, non male, oltre a questo c'è il tool, ok quindi la quarta era una fregatura e le rare qui, diciamo secret qua, quindi abbiamo sto coso che odio, ok, allora cominciamo, e cominciamo, continuiamo, di force scout, allora prossimi video, tech profile del, uno, due, tre, quattro, dell'agent artifact, volevo farlo in real ma non so se riesco, in quanto non ho appunto gli artifact, ecco, l'ho detto e ora sbuca, e allora, vabbè, vediamo un po', secret, virgilio, un altro, mi dava un dante, ero più contento, allora, dove stanno le secret, qua, so per qua, oltre a qua, sto coso, non so cosa sia, vero, ecco, ok, con un hatch, vabbè, penso che a nessuno interessino, o meglio, io non ho idea di cosa si trovi tra le common, e so solo che, eeeh, sono ristampe, cioè, i megatini sono le ristampe, l'ho fatto solo per voi, quindi, continuando, ah, sappiate che io ho la sfiga nel culo in tutti i pack che apro, voglio un fottuto, megakaius, e perché megaraiza? Io volevo kaius, non megaraiza, ma fa un culo, heraldo è qualcosa che brilla, dai, tre pack, allora, no, l'ho aperto male, fuck, shadow beast, ho visto, eeeh, spoiler, stardust, tu spoiler, eeeh, lo so, scusate, penso che le riconosciate dalle immagini, io vado anche veloce, non so perché, non leggo, shadow beast, ma perché ora mi escono tutti i monarch, tangelli, e, void launch, si, ora mi escono tutti i monarch, tranne un fottuto kaius, e un fottuto, eeeh, mmm, kaius e zabbork, la sfiga nel culo, ve l'ho detto, ah, un altro shadow, spoilerato, dai, dai, chiamiamo kaius, 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 casto, casto, oh, dai, wind, Un'altra carta Monarch Dai, dai, carina Quindi è carino Questa non so cosa sia Ma va bene, mi sono scordato di mettere le rare lì Ultimo pack Vogliamo Kaius Cioè o meglio io voglio Kaius Scusate la volgaria Annacciarami Scusate l'accento terronico Stavo per fare un erroraccio Stavo per vedere le carte Uno, due, tre, quattro Tanto, mocioletta Ci voleva tipo la musica Della Pirati dei Caraibi Perché sto facendo Sivers Allora Cazzo è? Non lo so Ma Dai, io volevo un fottuto Kaius Non so cos'è, sto cos'è figo Ditemelo Dopo mi leggo gli effetti con calma E fanculo manco Cioè di Monarch che non ciò Come mi sono capitati Ma vaffanculo Vi faccio il resoconto Quindi continuate a seguire Ricopitolando abbiamo Vabbè Le due Cover cart Poi l'oro che non do E penso manco l'oro Poi secret abbiamo Mega Raiza Mega Mobius Fatto Young Zing Che penso di dare Questa E Un attimo che non si vedono Questa Non so i nomi Ah è anche un Virgilio Che Penso anche di non dare Allora Poi per le ultra Perché ho detto allora Così a random Un window Un tool Uno scout Quale tool Puttaniere Un aralto Grosso Un Knight Vabbè Sto coso Un angelli E una Sinister Shadow Games Infine Per le super Un nero Un bianco Un marrone E dei rosa Ehi ragazzi Se la sbustata vi è piaciuta Dubito Mettete like I prossimi video Si vedranno Detto probabilmente Agent Artifact Ma Forse su DN E Niente Iscrivetevi al canale Lasciatemi un mi piace Un mi piace Sulla pagina facebook Trovatevi sotto in descrizione Commentate Dite che sono sfigato Ma ok Perché non trovo mai Quello che voglio Un fottuto Caius Volevo E non l'ho trovato E Niente Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Vi vedete Al prossimo video